Siamo a Sanremo, Radio Bruno Tutti cantano Sanremo E qui nella nostra postazione Radio Bruno, area stile, non potevano mancare Ben Gioffede, benvenuti Ciao a tutti, grazie a voi Ciao Ragazzi siamo felicissimi di vedervi qui perché sarete nella serata delle cover sul palco con Alessio Bernabei Esatto, siamo carichissimi e siamo felicissimi anche noi di essere qui perché Voi siete stati comunque i primi a credere in noi Non ci dimentichiamo ancora in Radio Bruno estate e quindi ci fa un sacco piacere essere qua Assolutamente sì, speriamo insomma di far bene anche stasera, dimostrare che vogliamo qualcosa Raccontateci un po', un'anticipazione si potrà fare della cover? Sì, allora è una canzone di Riccardo Cocciante, si chiama Mano a Mano e diciamo che l'abbiamo rifatta rendendola un po' nostra Sì, è una canzone che abbiamo praticamente rifatto chitarra acustica e voce praticamente per quasi tutto il tempo E cercheremo appunto di rendere onore a una canzone così bella, faremo del nostro meglio Sarà difficile ma è una grossa responsabilità per noi Abbastanza minimale rispetto a, se uno pensa comunque agli arrangiamenti di Sanremo soliti Però speriamo comunque che colpisca il pubblico ecco Siete emozionati di calcare quel palco? Sì assolutamente, noi comunque provenendo dal web non ci saremmo mai aspettati un giorno di poter salire su questo palco Oltretutto come ospiti nella serata cover, quindi siamo davvero molto molto contenti e carichi Un po' di tensione c'è, è chiaro che sia così però insomma siamo pronti Appunto dall'incontro sul web alle prime partecipazioni a Radio Brunestate siete letteralmente esplosi E proprio per questo incontro nel web avete dedicato il primo album a quell'orario specifico Sì abbiamo chiamato l'album 20.05 che è l'orario esatto in cui Fede mi ha mandato un messaggio su Facebook Chiedendomi di fare la band e diciamo che ci piace pensare che alle 20.05 si è iniziato tutto Esatto e ieri penso, l'altro ieri erano quattro mesi dall'uscita E siamo quasi disco di platino quindi ringraziamo tutte le persone che l'hanno comprato e ci hanno supportato Bravi voi Grazie a voi ci siamo questa sera a suonare Esatto Ragazzi dopo Sanremo? Eh dopo Sanremo tanta nuova musica si spera Non solo ci sono anche delle altre piccole sorprese Sì si spera anche di fare dei concerti in giro per l'Italia però di più non possiamo dire però insomma tanta musica sicuramente Quando potrete ce ne venite a raccontare magari in sede Molto volentieri, molto volentieri ci siete sempre stati per noi e noi siamo onorati di essere qui ogni volta È stato davvero un piacere avervi con noi, salutate tutti gli amici di Radio Bruno Ciao a tutti gli amici di Radio Bruno, grazie di tutto Radio Bruno 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 Radio Bruno